Tutti ne parlano ma nessuno lo vuole. Eppure la prima mossa per sconfiggere il nemico è quella di conoscerlo a fondo e oggi voglio farti chiarezza una volta per tutte su cosa sia il grasso corporeo, le sue funzioni e soprattutto come e perché aumenta. Il tessuto adiposo, detto comunemente grasso, rappresenta il principale deposito di trigliceridi nell'uomo. È costituito da un insieme di cellule chiamate adipociti la cui funzione è quella di sintetizzare i trigliceridi e rilasciarli sotto forma di glicerolo. Il tessuto adiposo è un vero e proprio organo costituito da due tipi di cellule, bianche e brune, in grado di produrre veri e propri ormoni come ad esempio la leptina che influenzano l'attività dell'intero organismo. I lipidi magazzinati nel tessuto adiposo sono in parte di origine alimentare ed in parte vengono formati all'interno degli stessi adipociti grazie alla trasformazione chimica di altre sostanze come il glucosio. Il tessuto adiposo inoltre contiene il 10% di acqua, un 2% di collagene e uno 0,1% di glicogeno. Lo spessore e la distribuzione del tessuto adiposo sottocutaneo è differente nei due sessi. Solitamente nelle donne la massa adiposa è concentrata anche nelle natiche, nelle cosce e nell'addome al di sotto dell'ombelico. Negli uomini invece la massa adiposa si concentra nel viso, nel collo, nelle spalle e soprattutto nell'addome al di sopra dell'ombelico. Il grasso, cioè il tessuto adiposo, pur brutto che sia, da vedere, però svolge delle specifiche funzioni. Prima di tutto è una riserva energetica, funge da protezione contro gli urti e sostegno meccanico dei vari organi, ha una funzione di modellamento della figura corporea e inoltre funge come isolamento termico, in questo caso parliamo del tessuto adiposo bianco, aumento della temperatura corporea e smaltimento degli eccessi alimentari sotto forma di calore, in questo caso parliamo di tessuto adiposo bruno. Ma veniamo al dunque, come e perché aumenta il tessuto adiposo? L'aumento delle masse adipose può avvenire in due modi, uno per iperplasia, cioè aumento del numero delle cellule adipose, oppure per ipertrofia, cioè aumento delle dimensioni delle cellule adipose. Al contrario delle fibre muscolari, il tessuto adiposo ha la possibilità di aumentare il numero di cellule che lo compongono. Esiste infatti un limite oltre il quale gli adipociti non possono ulteriormente aumentare di volume, ma possono altresì aumentare di numero. Quindi prima di tutto devi sapere che è possibile ridurre il volume delle cellule adipose, ma non il loro numero. Ecco spiegato il famoso effetto yo-yo, cioè quando una persona sovrappeso dimagrisce, le cellule adipose riducono il loro volume, cioè perdono una certa quantità di grasso, ma allo stesso tempo il numero di adipociti non può essere ridotto. Quindi nel momento in cui questa persona interrompe il suo percorso dimagrante, cioè ad esempio l'allenamento e la dieta, in breve tempo riacquista gran parte del grasso corporeo perso. Fortunatamente però il fenomeno dell'iperplasia degli adipociti si verifica solo in particolari circostanze. Diciamo l'ultimo semestre di gestazione, quindi in questo caso parliamo di donne, il primo anno di vita nei neonati, oppure l'inizio del periodo adolescenziale. Quindi fatta eccezione per questi tre casi, i cambiamenti della composizione corporea e nel caso specifico della massa grassa si verificano solo per variazione del volume di grasso contenuto nelle singole cellule adipose, oppure quando si parla di uno stato di sovrappeso moderato ad una condizione di obesità. Ecco perché allora in questi casi prevenire è meglio che curare, non è impossibile ma è sicuramente non facile agire sulla perdita di massa grassa e in ogni modo è certamente più semplice prevenire un aumento eccessivo del tessuto adiposo e del numero di adipociti, soprattutto nei bambini che rischierebbero di essere condannati, diciamo, a rimanere obesi o comunque sovrappeso per tutto il resto della vita. Se vuoi approfondire l'argomento o vuoi farmi delle domande non esitare a lasciarmi un commento, sarò felice di risponderti. Anche per oggi è tutto, ci sentiamo presto e buon allenamento. Ciao!